Nona concorrente, lei ha otto anni e viene da Carlentini ed è Giulia Camilleri e ci canta La Vie en Rose di Edith Piaf Un applauso? Che bellissima! Me la ricordo questa bimaceora anche l'anno scorso, sempre originale Allora a voi, Giulia Camilleri Tessi qui fanno il cielo è mio, ai qui sapai sa buchi, voilà le pato e sai tutti, dell'amun che è già partì Quando il me poida dans ses doigts, il me parla tutto bas, io ho la vie en rose Il me dita e molle, e s'en fa che cosa Il è un tuer da molle, il n'est pas de bonnet, dont je connais la cause C'è lui per me, per lui dans la vie, il me l'a dit, la gioia per la vita Il è il di cui io la perciò, alloce senza a moi, mon cœur qui m'a C'è lui per me, 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 per me Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Ammazza che applausone Microfono della mia collega L'accendiamo Non si accendeva Giulia Camilleri di Carlentini Bravissima Bellissima Sapete una cosa questa ragazzina qua Da quando è che era Vabbè è sempre la stessa Comunque Perché cosa hai contro le persone un po' bassine No no non sto dicendo questo Perché guarda che io sono un gigante No comunque Stavo per dire che questa qua Ormai hanno votato Vero avete votato C'ha lo spettacolo nel sangue Lo devo dire Perché da quando era piccolina proprio Che ha partecipato a sfilate Poi una espressività nel cantare Non so se avete notato Davvero Una brava artista La nostra Giulia Camilleri Un applauso Anniamon